Cambio al vertice del campionato di Serie D, a suon di gol, ben 22 e grazie a 7 vittorie consecutive, la Santa Egidese di Aldo Amazzalorso si appropria della vetta. Asfaltato a domicilio anche il fananino di Codare al Montecchio, anche senza buttazioni, l'attacco non perde efficacia grazie all'altro gemello del gol, Bucchi, autore di una doppietta. Nel mezzo il raddoppio di Corazzini. La Santa ringrazia se stessa ed il Chieti che interrompe la marcia dell'ex capolista Tessa Valdisangro, infliggendole il primo stop. 2-0 con un gol per tempo di Vitone e Rosa. Si è sentita l'assenza del bomber Miani tra i sangrini. Per il Chieti ora si attende un salto di qualità in trasferta. La stessa cosa vorrebbe fare il Canistro che in attesa si gode la terza vittoria interna consecutiva a spese delle Casuli nell'anticipo del sabato. Anche in questo caso un gol per tempo di Marangon e ad inizio ripresa di Di Genova. Nel terzo derby di giornata resuscita la Renato Coriangolana che a sua volta lascia la crisi al Miglianico, acuita dopo l'1-4 pesante incassato al fratelli Ciavatta. Sembra subito pagare dividendi il cambio sulla panchina nerazzurra con Marc Angeli al posto di Norscia in attesa di ulteriori verifiche. Intanto l'ex tecnico del Morodoro si gode il poker dei suoi calato da De Matteis, Doppietta, Cossu e Fideli. Alleggerisce il passivo Zarini per un Miglianico ora penultimo. Sale in seconda posizione l'Aquila e ringrazia la solidità della sua difesa per un gol subito in otto partite che massimizza il centro del solito sparaccio in apertura di gara a cento buchi. Niente da fare per il Morodoro in casa del Campobasso, strada subito in salita per via del gol di Cirilli. La squadra di Paolucci chiude i conti con il centroavanti Gerardi 2-0 il finale.